Con la piantumazione di questo acero rosso alle mie spalle, in segno di ringraziamento allo Stato del Canada, si riaprirà il prossimo 9 dicembre il centro polifunzionale realizzato appunto dal Canada come donazione all'Università dell'Aquila nel post terremoto. Sale studio, palestra, un bar, un centro di aggregazione vero e proprio, come sottolineato dalla Presidente della DSU Eliana Morgante, che è stato l'ente che ha provveduto alla riapertura del centro e soprattutto alla messa in sicurezza e all'agibilità definitiva di questa bella struttura. Si fa questa inaugurazione con grande ottimismo, con una visione positiva rivolta al futuro, e al futuro non solo del Canada, di questa struttura, di tutti gli studenti che potranno beneficiarne, delle associazioni che vorranno beneficiarne. Una visione positiva rispetto al futuro rivolta proprio a tutta la città dell'Aquila. Questo, e ve lo posso assicurare da ex studente e quindi frequentatore di questa struttura, è uno dei centri più importanti per l'intero tessuto universitario di questa città. Riportarlo in auge per noi è un motivo di orgoglio e sarà altrettanto, o forse anche qualcosina in più, di valore rispetto a quello che era in passato. Per noi oggi è importantissimo questa manifestazione e per questo con la Presidentessa abbiamo deciso di donare questo bellissimo acero rosso. La riapertura del Centro Polifunzionale del Canada è solo il primo passo di una serie di interventi dell'Ufficio per il diritto allo studio universitario dell'Aquila. Dopo Natale sono previste infatti le riaperture della Mensa di Roio e Campo Mizzi.